Che aria triste quando ti vedo indugiare tra l'infanzia e l'età che arriva, l'appuntamento segnato in rosso sull'agenda, quello a cui non si può mancare, perché ritardo o inciampo non è ammesso. Ma la forma scelta per esprimere tutto questo è volutamente ambigua, non si capisce chi è triste davvero, se sono io o sei tu che pensi e sospiri a quello che accadrà quando io non c'ero.